ok bella raga oggi siamo al posto di portarvi partite su sulla play di fortnite oggi ve la porto al telefono anche se è un po difficile da giocare ci proviamo lo stesso adesso per la falca il camento è ok 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 non andiamo dove non posso un po' lontano qua come si vede lagga troppo non so perché a me con un mio amico non lagga mai che c'è una wifi di cacca e a me lagga sempre però vabbè questo è solo per farvi vedere com'è da giocare da telefono e da ma quanto ci vuole scendere oh misere raga alla fine c'è una mia acqua vabbè no stress adesso allora in volo praticamente è anche abbastanza difficile muoverti però in uno terri è facile abbastanza facile abbastanza allora allora qua come si vede se non mi se non mi sta baggando ok come si vede tu devi schiacciare su quello che vuoi prendere schiacciare con un dito o alti via e te lo prendi poi per saltare ci sono i tasti di fianco qua qua di fianco e ad esempio poi ci sono la band ecco presa e per spostarle devi tenere premuto sull'oggetto e andare dove vuoi dove vuoi spostarlo come miseria perchè fai questo rumore questo telefono maria tarocco oh vai giù si eh si 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 ok no no avete sentito qualcosa o no no è niente non c'è il palio ora c'è qualcuno il 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 è no 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 e per ricaricare dove vedete per ricaricare perché mentre dove vedete gli oggetti che ho preso ehm sopra ci sono i colpi basta che li usate ok 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 non no 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 se ho preso di forniti da playa Dov'è sto scaretto? Che bello Ah ragazzi Perché c'è sto? Ancora Ragazzi la vittoria Non la facciamo Cioè prima l'ho fatta una L'ho fatta una però La prima che faccio il giorno Solo oggi l'ho fatta Perché adesso mi lagga di meno? Perché prima mi laggava di meno? Cioè laggava di chi? Sì Ah beh raga Qui io Sto però il video No, tra poco Ci salutiamo E nei commenti Anzi Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi Iscrivetevi E scrivete qua sotto Se volete che vi porto più video Dalla playa o dal telefono E al telefono Poi scaticherò altri giochi E belli Che ho trovato E li farò vedere Ovviamente Ovviamente Ovviamente